Che spettacolo andrà in scena questa sera? Questa sera andrà in scena lo spettacolo dei monologhi della vagina, che è una serie di monologhi presi dalla VD internazionale. Sono delle brani letti che partono dall'esperienza delle donne attraverso la loro vagina per parlare di violenza e per parlare però non solo della violenza subita, ma per parlare anche di cose positive che si vivono attraverso la propria sessualità e la propria vagina. Questa è l'idea di fondo di questo spettacolo che ha l'obiettivo appunto di combattere la violenza sulle donne e sulle bambine nel mondo. Perché il nome Vagina è monologhi della Vagina? Da cosa è venuto questo nome? È venuto dall'autrice di questa performance teatrale che si chiama Ive Ensler, che nel 1998 ha creato questo movimento, il V Day, legato proprio al simbolo della V, intendendo come V, vittoria contro la violenza, Vagina e San Valentino, perché il primo spettacolo si fa il 14 febbraio, il giorno di San Valentino. Ti chiede un'ultima cosa, abbiamo visto appunto dei monologhi, quindi comunque parlare, cioè l'esperienza del raccontare quello che è successo, quanto è importante contro la violenza di parlare, le testimonianze? Credo che sia fondamentale parlare, prima di tutto perché la gente deve conoscere e sapere il problema ed essere sensibilizzata sul tema, secondo perché anche le stesse donne, credo, hanno bisogno di poter sentirsi libere di esprimere la loro sessualità, di esprimere anche la loro dimensione umana e non essere frenati da qualsiasi altro impedimento. Quindi il parlare è elemento di conoscenza, di informazione e anche di formazione.